Ciao e bentornati al sondaggio quiz. Questa settimana l'argomento è rendita catastale. La rendita catastale di una casa indica secondo il catasto quello che sarebbe il corretto canone mensile di locazione o affitto che dir si voglia di quella casa. Vero fasso? Il 21% di voi ha risposto vero mentre il 79% ha risposto falso e la risposta corretta è molto falso e vediamo perché. Nella visura catastale di un immobile che può essere definita un po' la carta di identità di quell'immobile sono contenute una serie di informazioni che ne descrivono la tipologia, il posizionamento geografico, gli intestatari, attenzione però non dimentichiamoci che in Italia il catasto non è probatorio e gli eventuali cambi di destinazione, classamento e le relative pratiche. Tra queste informazioni c'è anche la rendita catastale che è la base per calcolare il valore catastale che è determinante in fase di compravendita di un immobile o in caso di donazione o successione. Il valore catastale è la base imponibile su cui applicare le aliquote per le tasse relative agli immobili. Nulla a che vedere con il canone di locazione. Per maggiori info contattatemi pure in privato. Come sempre complimenti a coloro che hanno risposto correttamente, per tutti gli altri ci sono le mie pillole immobiliari live. Arrivederci al prossimo sondaggio quiz.